Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi siamo qui per fare il pre-partita di Juventus Parma che giocherà stasera, quindi mercoledì, come turno infrasettimanale alle 20.45. Partiamo con le formazioni. Allora io inizio con quella della Juventus che secondo me si schiererà con un 4-4-2 con Buffoni in porta perché tanto noi siamo già retrocessi quasi quindi la Juve fa turn over Quadrado terzino destro, difensore centrale di De Ligt e Bonucci, come terzino sinistro Danilo esterno destro Kulusevski ex, speriamo che non faccia gol, Mentakur Arthur a centro campo come esterno sinistro invece Rabiot. Due punte che sono Dybala e Ronaldo, Ronaldo recuperato dalla scorsa partita, cioè la scorsa partita non c'era stato recuperato invece Dybala che sta facendo un campionato bruttissimo però da quando ha fatto gol lo stanno mettendo a titolare anche se non ha più segnato. Passiamo al Parma con un 4-3-3 con Colombi in porta perché io mi rifiuto di mettere Sepe ve l'ho già spiegato già da due video tipo che tanto giocherà Sepe però io mi rifiuto di metterlo perché è inguardabile. Terzino destro Buzi perché è conti indisponibile e Laurini comunque non ha fatto una grandissima partita la scorsa settimana però gioca meglio Buzi quando entra quindi io ho messo Buzi. Difensore centrale Bani Osorio, terzino sinistro Pezzella che viene da un gol anche se inutile. Centrocampo a 3 con Kurtic, Brugman e Ernani visto l'infortunio di Kucca. Ernani in ballottaggio con Grassi ma secondo me gioca Ernani quindi io metto Ernani. Poi attacco con Mihaela che torna al 100%, Pelle che non so perché sia rimasto in panchina la scorsa settimana e Mann. Allora la scorsa settimana Cornelius non ha giocato male però comunque Pelletta aiuta molto a tirare sulla squadra quindi io l'avrei messo. Indisponibili del Parma sono una lista sempre più lunga perché si è aggiunto anche Kuzka sono quindi Kuzka, Gagliolo, Conti, Nicolussi, Ciprienne, Jacoponi, Zirgze e Inglese. Lista lunghissima. Speriamo di non perdere 4-0 come è andata, magari di ottenere almeno un punticino oppure di fermare la Juventus che comunque per me se non arrivasse in Champions sarebbe il top se non arrivasse neanche in Champions però sarà dura. Diciamo che non concederli 3 punti sarebbe un'ottima cosa per non farlo arrivare in Champions quindi farò magari un pareggio però sarà difficile. Mi ricomando lasciate like, iscrivetevi al canale e sempre 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 Forza Parma!